Buonasera amici, benvenuti nel mio 118esimo giorno di dieta. Come sapete ho ripreso il piano alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina colazione con un bel cappuccino caldo e un cornetto di quelli confezionati scaldati in frigidrice ad aria. Sì, stamattina è andata così. Comunque era buono, ma bene, ogni tanto ci può stare qualche merendina confezionata. Non era male, era anche buona tra le altre cose. A pranzo mi sono preparata degli gnocchi con una salsina di tonno, mais e formaggio. E devo dire che non è venuta male, peccato che gli gnocchi mi sono distratta, li ho fatti cuocere un po' di più e sono venuti tipo un po' a pazzone, infatti si vede. Però la salsina, raga, è venuta buona, buonissima, veramente. Diciamo che forse con una pasta non così morbida, forse è meglio gli gnocchi. Non è che era cattivo, però forse sarà che li ho cotti troppo. Merenda, ovviamente due belle fette di anguria e per cena ho preparato il mio marito la carne macinata con gli spinaci. L'ho mangiato mezza ciapattina, diciamo così, non è una ciapatti, è un pane nanna ai semi. Devo dire che questo abbinamento spinaci-carne macinata è buonissima. Di solito lo facciamo con i ceci o con le patate, però così è veramente anche molto molto buona. al bacio. Questa è stata tutta la mia giornata, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto e come sempre accetto consigli e ricette magari diverse da provare visto che a me piace sempre sperimentare cose nuove, non mangiare le solite cose. Ovviamente sempre rimanendo nel mio range. Ciao! 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 Ciao!